questo marcano Bettini Bettini che cerca di accumulare un po' di vantaggio nella salita vera e propria accuserebbe un po' di distacco dai vari Pantani, Gotti e compagnia e quindi cerca la fuga prima adesso anche Gasperoni ci ha portato in testa in quarta posizione della Cantina Tololexi anche Arieta della Banesto però arrivano anche altri corridori mi sembra Petito della Saeco ed eccoci che il contrattacco di Bettini è stato stoppato Gasperoni ed è Gasperoni che vedete in prima posizione contrattacco di Gasperoni vanno su a 30 all'ora la salita è bella, regolare, strada ampia asfalto ottimo stanno andando su molto forte stanno salendo con il 53-19 però la Mercatone 1 non molla vedete, va su regolare non risponde agli scatti però vanno su molto forte mentre la regia ci ripropone lo scatto di Gasperoni di Cotignola Romagnolo è nato a Lugo l'anno scorso ha vinto quattro corse e visto che siamo in Piemonte ricordiamo che da queste parti ci sarà il campionato italiano ad Arona campionato italiano assoluto e subito dopo il campionato italiano a cronometro ad Arona il 27 di giugno poi il campionato italiano in linea il 29 campionato italiano a cronometro e poi l'Anzafame che è stato un ottimo gregario organizza anche il campionato italiano degli ex professionisti al quale sicuramente parteciperà anche Cassani il giorno prima del campionato italiano dei professionisti c'è quello degli ex professionisti ad Arona allora inquadriamo questo Giro d'Italia con un intervento del direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavo io per la verità sono venuto a rubare pochi secondi alla tua telecronaca perché so che tu sei un appassionato d'arte e allora ti volevo dire che questo che vedi questo catalogo che ho portato si riferisce a una mostra di pittura moderna dedicata al ciclismo che si è aperta qui nel meraviglioso santuario di Europa in occasione del Giro d'Italia e mi pare un accostamento classico tra sport e arte cioè la cultura che si avvicina allo sport superando quella fase di snobbismo intellettuale che insomma credo rompesse molto onore alla gente di cultura del nostro paese quindi una cosa bella veramente sono andato a vederle è una mostra di pittori moderni molto bella tutta sul tema del ciclismo intanto scatta Uria Gonzales ma torniamo un attimo al ciclismo dopo questo break interessantissimo sull'arte beh al ciclismo che cosa vuoi dire mi pare che i fatti parlano da sé io rispetto i pareri di tutti ma ci sono dei fatti che appunto si esprimono circa il valore di questo giro circa la bellezza di questo giro a parte le grandi folle mai viste a parte gli ascolti, i giornali e tutto quello che è ma è un giro che appassiona e ha un leader il leader che è più atteso un ragazzo che è stato lanciato ieri in maniera in una dimensione del tutto nuova e ha una grande battaglia si profila addirittura l'insorgere di una vera rivalità tra due campioni cioè Gotti e Pantani cosa di cui il nostro ciclismo aveva tanto bisogno con Savoldelli come terzo incomodo Savoldelli è la più bella novità di questo giro fino a questo momento se dura secondo me da questo giro esce davvero un nuovo grande personaggio ringraziamo il direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò mentre ricordiamo che l'anno scorso il Giro d'Italia ha avuto un successo incredibile a livello audience un italiano su due ha seguito la TAP e ieri c'è stato il 48% di share vuol dire che su 100 televisioni accese 50 erano sintonizzate su Rai 3 per vedere il Giro d'Italia siamo ormai in vista del campione della montagna Mazzocchi sì un po' di nomi di corridori che hanno già pagato su questa prima salita allora Pieri, Arazzi che è stato protagonista ieri di una bella fuga poi Strazze, Erminali, Faustini, Van Dijk Blaile Evans Van Kessel Radaelli Figueras Fontanelli Zanetti Frutti e Brognara stiamo risalendo il gruppo vediamo se ci sarà qualcun altro a voi il secondo te questa salita può provocare una netta selezione o bisognerà attendere mentre sempre Uria Gonzalez al comando marcato da Cepe Gonzalez no qui non ci sarà selezione si staccheranno solamente i velocisti adesso c'è questa volata tra Bettini e Cepe Gonzalez per la maglia verde sono appaiati in testa classifica la maglia verde sulle spalle di Cepe Gonzalez ci sarà questa volata e visto il successo tenuto nella tappa di ieri come audience ricordiamo che le prossime due tappe saranno due tappe per velocisti e poi ci sarà questo grandissimo finale con asperità ogni giorno quindi appuntamenti da non perdere domani è una tappa insidiosa nel finale perché è tutta pianeggiante fino a 20 km dall'arrivo poi il doppio passaggio Lumezzani Lumezzani che è sulle prime colline del Bresciano e dopo la tappa di domani tappa per velocisti Castelfranco dopo la tappa di Castelfranco un importante verdetto la cronometro di Treviso 45 km completamente pianeggiante Uria Gonzalez Cepe Gonzalez e poi Bettini si sta sprintando per questo Gran Premio della Montagna Gran Premio della Montagna il primo della giornata Gran Premio della Montagna di terza categoria quota 595 dopo 110 km di corsa Bulbarelli il gruppo si è frazionato in tre tronconi davanti sono rimasti in 60 naturalmente tutti gli uomini di classifica fra coloro che si sono staccati annotiamo oltre a quelli oltre a quelli che ha detto Marco Mazzocchi anche Tafi Pelliccioli e Celestino ecco Celestino qui al giro forse avrebbe potuto fare qualcosa in più ma non è in perfette condizioni fisiche a voi Auro intanto ecco che vediamo Cepe Gonzalez scatto di Cepe Gonzalez Bettini lo marca stretto mentre perde contatto Uria Gonzalez testa a testa tra i due leader Bettini in precedenza Cepe Gonzalez adesso scatto di Cepe Gonzalez Colombiano Bettini lo marca stretto mentre perde contatto Uria Gonzalez notate che si scattano nei denti uno con l'altro non cercano la fuga ma solo punti per la maglia verde mi è piaciuto questo termine si scattano sui denti eh si dice così delle volte in gergo perché proprio gli scattano uno davanti uno con l'altro per impressionare l'avversario per demoralizzarlo adesso si fermano adesso si fermano magari si insultano e adesso riparte Bettini riparte Bettini altro scatto sui denti da parte di Bettini però si ferma subito il gruppo sta recuperando siamo intorno al centodecimo chilometro di corsa di questa tappa da Racconigi ad Europa che di chilometri prevede 143 un percorso pianeggiante nella prima parte poi dopo 110 chilometri di corsa il primo gran premio di terza categoria al valico della Serra a 33 chilometri dalla conclusione adesso Piccoli si è accorto che si sono fermati e cerca di andarli a riprendere Piccoli scatta sui denti lui che pure lui ecco di fatti guarda e li ha presi e superati altro atleta abituato a vestire la maglia verde ecco seguiamo con interesse questa faida tra gli scalatori ma Bettini riprende e riparte Bettini Bettini si riporta in testa ed è Bettini che passa per primo davanti a Piccoli testa a testa tra due italiani con Ceppe Gonzalez che si è lasciato sorprendere e passa in terza posizione allora Bettini poi Piccoli poi Ceppe Gonzalez e poi tutto il gruppo 110 chilometri percorsi e con la ripetizione dello sprint allora parte in testa Piccoli Bettini recupera aggancia il Trentino e lo supera Bettini Piccoli Ceppe Gonzalez nell'ordine al Gran Premio della Montagna della Serra a quota 595 a 32 chilometri dall'arrivo sono gli uomini al comando da prima scattatoria poi è ritornato anche Gonzalez adesso anche gli uomini della Saeco con Fagnini vediamo anche Guidi c'è battaglia in testa al gruppo gruppo in lunga fila indiana vogliamo riepilogare cosa prevede il menù di questa tappa un finale da seguire alle De Paoli stiamo adesso in un tratto in discesa i corridori hanno passato da un paio di chilometri in prevede della montagna discesa fino a Mon Grando a quel punto mancheranno 23 chilometri all'arrivo si passa per Biella dove è posto l'intergiro sempre a Buoni al primo al secondo al terzo 6-4-2 poi gli ultimi 11 chilometri in salita di Sligato di Favaro che circa 2 chilometri 2 chilometri e mezzo di salita molto impegnativa poi gli ultimi due chilometri c'è un tratto meno impegnativo qua i corridori forse forse dico potranno utilizzare 53 dunque penso che utilizzeranno 41-15 41-14 speriamo a vedere per quanto mi riguarda 39-23 fisso siamo a 2 chilometri alla retta tratto impegnativo anche per me ciao studio vorrei farvi notare oltre la salita anche l'affetto della gente è l'uno e mezza eppure qua si è pata quindi oltre la salita ha comprato tutto il pubblico che sta aspettando il rio dei Corriori non il mio siamo a circa 500 metri d'arrivo qui i giochi saranno fatti dire un pronostico è difficile per me che non è zecco 1 comunque questa salita sarà il verdetto finale a voi studio sei d'accordo sui rapporti che ha consigliato Gianni? sono d'accordo anche se Gianni è uno di quelli che sarebbe salito col 53 purtroppo adesso deve salire con il 39-23 però col fiatone abbiamo visto parecchi con la maglia rosa perché? perché oggi c'era la pedalata rosa 6.000 partecipanti un successo incredibile migliaia di persone in biciclette quasi tutti sono rimasti qua sul percorso per assistere all'arrivo dei professionisti intanto ci avviciniamo a Biella 28 secondi di vantaggio i 5 nei confronti del gruppo Gomez Rodriguez e Petito siamo agli ultimi 10 chilometri 10 chilometri ancora prima della conclusione mentre si sono staccati Fagnini e Piccoli linea a Bulbarelli si oltre a Fagnini Piccoli anche Secchiari Calcaterra vedo anche Guidi e adesso risaliamo assieme alla macchina della giuria proprio in questo momento il gruppo Maglia Rosa 10 chilometri al traguardo anche Forconi ha perso qualche metro 18 secondi il vantaggio dei due battistrada nei confronti eccoli qua i due fuggitivi Gomez Rodriguez il numero 39 e lui che sta sopportando il peso maggiore di questo attacco con Petito Petito Junior siamo in un tratto di salita al 6-7% ancora a 400-500 metri poi la strada torna ad essere pianeggiante c'è un chilometro di pianura e poi a 8 chilometri dall'arrivo ricomincia la salita ed è arrivato dalle nostre parti anche Marino Basso ex campione del mondo che invitiamo a recarsi al processo della tappa qui rimaniamo sulla cronaca diretta siamo ormai a 9 chilometri dalla conclusione c'è sempre Massimo Potenzana anche gli uomini della Saeco con Mario Scirea poi Savoldelli eccolo lì Jalabert Kamenzind vediamo anche Miceli poi Pantani e 4-5 uomini del Mercatone 1 grande prova d'orgoglio da parte del campione del mondo e del campione di Francia primo piano di Petito Mazzocchi appena è cominciata la salita verso Europa si è staccato subito Zulle con lui abbiamo visto Brignoli ovviamente Totti Richard Cauchioli e Panetta già fuori dai giochi dunque Alex Zulle anche ieri un Alex Zulle che si era comunque presentato lo aveva dichiarato si era presentato con pochissimi pochissimi chilometri della gambe quindi aveva fatto ancora grosse cose aveva dimostrato la sua classe mentre vediamo Potenzana Garzelli in testa si è staccato anche Bettini mi confermi Mazzocchi proprio qui accanto a noi azione pesantissima quella di Bettini superato dice quasi in tromba da Michelangel Pegna che anche lui è in difficoltà poco davanti a me ci sono Berzin e Tuma allora già ci sono le prime vittime e nemmeno è passato un chilometro di questa prima prima parte cioè di questa salita che non è nemmeno il momento più duro peraltro a voi mentre ecco che scatta Gomez Rodriguez nelle prime posizioni nelle prime posizioni abbiamo visto anche Biceli potrebbe rientrare Petito perché adesso c'è un chilometro di pianura eccolo qua eccolo qua infatti che si accoda nomi lunghissimi quelli degli spagnoli ci hanno due o tre nomi due o tre cognomi che ora dopo aver perso contatto per lo scatto secco dello spagnolo si riporta nella scia di Gomez Rodriguez abbiamo detto Petito Junior vuoi spiegare il perché? perché suo fratello Giuseppe Petito è ex professionista corso con me passato professionista nell'82 adesso è direttore sportivo della cantina a tollo Alexia vediamo che no non aveva forato a pulva a pera linea si sono proprio alle spalle della maglia rosa è stata l'assistenza Shimano a dargli la bicicletta adesso è arrivato anche Beppe Martinelli un momento veramente critico questo Pantani ha forato e uscivamo da delle stradine in cui le ammiraglie non potevano stare a contatto col gruppo adesso ha ripreso Pantani ecco lo stanno aspettando Velo e anche Borgheresi secondo me vediamo se rientra Marco Pantani mancano 8 km e mezzo al traguardo scusa sentiamo la ricostruzione del fatto da parte di Davide Cassani secondo me non ha forato secondo me ha avuto un salto di catena perché l'abbiamo visto lavorare al cambio dietro forse nel momento che ha messo la catena dal 39 al 53 c'è stato questo salto di catena ed ecco adesso avremo la conferma se è giusta la tesi di Cassani ha messo un rapporto ecco sì salto di catena adesso vediamo sì vedete cerca di rimettere sulla catena Bulbarelli sì sì confermo appena parlato con il meccanico che in pratica l'ha rimesso in strada ed è stato un salto di catena tutta la mercatone ma la mercatone 1 adesso indietro c'è anche Podenzana velo zaina e sono tutti con Pantani non ha perso tantissimo ma una trentina di secondi penso proprio di sì e abbiamo visto che il meccanico si era subito avvicinato con la nuova con la ruota proprio per sostituire mentre Cosinchenko che scatta il ritardo di Pantani 15 secondi salto di catena per Pantani il meccanico è stato pronto ad avvicinarsi non c'è stato bisogno di sostituire la ruota posteriore perché si trattava di salto di catena Pantani nella scia della squadra la squadra che aveva lavorato sino a questo momento a fondo per controllare le mosse del gruppo adesso deve ancora lavorare per riportare Pantani in coda al gruppo quali effetti potrà avere quali contraccolpi psicologici potrà avere questo incidente prima di tutto bisogna dire che ha perso molto in questo salto di catena siamo a 7 km dall'arrivo e adesso deve fare fatica per ritornare in testa al gruppo perché adesso c'ha 30-40 secondi dalla testa del gruppo il gruppo che piano piano si sta sfilacciando e adesso mette a posto anche le scarpe linea Mazzocchi e io sono in coda al gruppo in coda al gruppo che è tirato da Miceli con Savoldelli Giallabere Camenzin un po' staccato un po' dietro c'è c'è Chimenez adesso sta salendo anche Cepe Gonzales l'andatura è aumentata noi ci giriamo non vediamo ancora il treno della Mercatone e dunque il ritardo forse ancora torna ai 30 secondi comunque adesso sta tirando Miceli con accanto a sé Giallabere la salita comincia a farsi più faticosa più lunga più dura anzi a voi a Bulbarelli la linea mentre la regia ci ha riproposto Zincenco Bulbarelli sta recuperando Marco Pantani ha fatto un lavorone Garzelli in pratica ha tirato la volata di questo treno giallo-blu della Mercatone 1 adesso è Borgheresi a dare il cambio Zaina alle sue spalle Velo e quindi il Pirata in maglia rosa perde contatto anche Podenzana quindi con Pantani sono rimasti tre compagni di squadra Borgheresi Velo e Zaina adesso la salita comincia a farsi dura mentre abbiamo visto Pantani che ha superato Missaglia Mazzocchi si li vediamo li vediamo c'è in difficoltà Chimenez da un momento all'altro Pantani con il suo trenino raggiungerà lo spagnolo che non sta vivendo nemmeno oggi una grande giornata tutto il pubblico cerca di dare una mano a Pantani e ai suoi ma davanti davanti al gruppo che si è chiaramente sfilacciato si tira a tutta e mi pare sia Cefe Gonzalez con Jalaber nelle primissime posizioni in crisi anche Axelsson a voi comunque Pantani sta perdendo le ruote di Zaina e Velo adesso sta riportandosi sotto loro stanno andando a tutta loro non devono arrivare in cima alla salita cercano di riportare il più in fretta possibile Pantani che comunque non è brillante è naturale che quando uno ha un incidente all'invocco della salita a 10 km dal traguardo il nervoso a delle volte ti può bloccare perché ti senti così il panico ti viene quindi è un grosso problema per lui adesso c'è questo scatto Eras Roberto Eras quando mancano 6 km all'arrivo è il tratto più impegnativo della salita mentre Zizieco è stato ripreso Eras uno degli scalatori più attesi scatto di Eras ed eccoci con Pantani come giudichi la sua azione? non è brillantissima secondo me il nervosismo lo ha un po' attanagliato adesso cerca di difendersi e non mi sembra molto brillante adesso vediamo anche Gotti con Jalaber Allora Jalaber che va all'attacco con Gotti in seconda posizione mentre ecco che Pantani raggiunto Axelsson e Figueras ecco raggiunge supera Axelsson svedese Figueras ecco al fianco di Ceppe Gonzales quindi un Pantani indubbiamente innervosito indubbiamente con un'azione più pesante del solito però sta andando a riprendere Axelsson sta andando a riprendere Ceppe Gonzales vent'ora la nostra telecamera è nella scia di Miceli di Gotti e di Jalaber linea Mazzocchi e Gotti e Jalaber stanno tirando a tutta ho calcolato ad occhio quant'è il loro vantaggio rispetto a Pantani in termini di metri in termini di spazio e dovrebbe essere di almeno tre e quattrocento metri nel frattempo sta andando a tutta invece Heras che non ha alcun tipo di cedimento stiamo entrando adesso nel comune di Favaro e Gotti attacca tutta anche lui a te Auro adesso Marco Pantani sempre con il preziosissimo aiuto di Velo che è l'ultimo a mollare ha già perso contatto anche in Zain ha raggiunto oltre ad Axelsson anche Cepe Gonzales è in crisi ancora una volta Imenes e ha perso contatto anche Noè comunque oramai Pantani vede i fuggitivi è proprio in coda al gruppetto comunque mi sembra che adesso stia andando molto più forte Pantani siamo nel tratto impegnativo e mi sembra di aver rivisto la pedalata agile di Marco Pantani stavo proprio per dire eccoci con Miceli nella precedente inquadratura avevamo visto una Pantani che improvvisamente aveva dimostrato di avere recuperato morale e colpo di pedale c'è Jalabert poi c'è Miceli ecco qua siamo nella scia di Pantani mentre ora vedete in prima posizione Miceli in seconda l'orange Jalabert in terza Gotti mentre sta recuperando Pantani Pantani ha superato l'impasto ha superato il momento difficile un momento difficile forse più a livello psicologico che a livello gambe un finale veramente molto bello ed eccoci che Pantani si sta riportando nella scia i Gotti di Jalabert quando mancano 5 km nella conclusione secondo me appunto il nervosismo che era nato da questo incidente lo aveva un po' bloccato nei primi due chilometri appena la strada è tornata impegnativa con pendenze superiori al 10% Pantani si è sbloccato e ha ritrovato quel colpo di pedale 5 km all'arrivo vediamo sempre Pantani che adesso si è lanciato l'inseguimento di Jalabert di Gotti adesso siamo in un tratto di pianura siamo nella scia di Marco Pantani riprende la salita in questo momento abbastanza impegnativa mentre rivediamo il terzetto composto 22 secondi il distacco di Pantani dal leader della classifica da Eras quello che appunto vedete al comando poi nella scia di Eras che ripeto è il primo in fuga in questa quindicesima tappa 15 secondi il vantaggio di Eras nei confronti del terzetto composto da un Jalabert che ha ritrovato la condizione Gotti che si mantiene nella scia del campione di Francia e di Micheli Gonciar un po' in difficoltà vediamo davanti a lui Zincenco poi vediamo anche Camendinda vediamo Codolla questo è il gruppetto dietro a Marco Pantani Pantani che cerca di riportarsi su Jalabert bellissima tappa purtroppo c'è stato questo incidente di Pantani anche Micheli si sta rifacendo quest'oggi ieri non bene mentre vediamo che tra i tre più immediati seguitori di Eras non mi sembra ci sia un grosso accordo ecco Gotti Micheli in terza posizione l'andatura è sempre fatta da Jalabert eccoci con Pantani Pantani che ha raggiunto Savoldelli De Paoli poi vediamo anche Clavero e in testa questo gruppetto Simoni Gilberto Simoni Gilberto Simoni vincitore di un giro d'Italia tra i dilettanti Gilberto Simoni che al suo passaggio tra i professionisti era atteso come grande protagonista parente di Francesco Moser Paludigiomo allora in prima posizione c'è Eras spagnolo Jalabert si volta cerca un aiuto un aiuto che non gli viene dato però né da Gotti né da Micheli mentre ancora sui pedali scatta Pantani che è nella scia di Savoldelli cerca di recuperare un attimo siamo ormai a 3 km 500 metri dalla Vetti ma Jalabert ha staccato di pochi metri Gotti e Micheli allora la situazione Eras lo spagnolo al comando poi c'è Jalabert poi vedete Gotti Gotti con Micheli mentre Pantani marca stretto il suo più diretto avversario in classifica generale vale a dire Savoldelli che è a 53 secondi mentre ha dei problemi Camenzin eccoci con Jalabert ed eccoci in difficoltà Eras ed è Jalabert che lo raggiunge Jalabert ieri in crisi ora si porta al comando Mazzocchi eh sì Jalabert sta attaccando sta attaccando Eras che cerca di tenergli la ruota ma ci sono Gotti e Micheli lì non più di 10 metri e mi sembra di vedere ma qui ci sono gli alberi mi pare Savoldelli anche con Pantani c'è l'attacco di Jalabert con Eras che cerca di rimanergli alla ruota adesso c'è una curva ci scompaiono è andato Jalabert in fuga o quantomeno in tentativo di fuga Auro Marco Pantani è a 15-20 metri da Ivan Gotti con Pantani ci sono Clavero Savoldelli e Simoni eccolo là Gotti sta per essere raggiunto Gotti e con Micheli non più di 20 metri separano i grandi rivali di questo Giro d'Italia a voi allora la situazione vedete Savoldelli e Pantani Pantani rinfragato parte ha avuto un attimo di difficoltà ha superato questa crisi psicologica più che fisica ed eccolo là Pantani Pantani ormai lanciato all'inseguimento tra Jalabert e Gotti 6 secondi ma ecco che arriva Pantani riscatta ancora Pantani marcato stretto da Savoldelli Eras è stato ripreso Jalabert solitario al comando tutte le volte che la salita è più dura Pantani parte Pantani cerca di aumentare l'andatura cerca di recuperare nei tratti in falso piano quell'incidente gli ha fatto perdere almeno 40 secondi e li paghi anche perché poi ti viene il panico poi quando sei lì che cerchi di sistemare la catena e non ci riesci alla fine non sai più cosa fare attenzione Pantani si è portato nella scia di Micheli e di Gotti quindi abbiamo solitario al comando l'orange Jalabert Pantani si è riportato nella scia di Gotti e di Micheli ha recuperato 40 secondi ed ora riparte riparte riscatto Mazzocchi si Pantani sta cercando di andare a prendere Jalabert lo prende lo va a prendere perché non ha più di 20 metri di vantaggio il francese mi sembra soltanto Micheli alla ruota di Pantani e poi più dietro Gotti l'azione di Jalabert è meno limpida meno fluida e credo che lo possano prendere da un momento all'altro ed ecco Pantani con Micheli della scia mentre c'è Jalabert si è piantato Eras beh quest'oggi abbiamo assistito a una scalata stupenda di Marco Pantani con un rinato Jalabert che cerca la vittoria di tappa Jalabert sempre con questa bicicletta speciale da salita ruote da 26 bicicletta molto leggera intorno ai 7 kg e Pantani che è andato a riprendere tutti adesso può anche ripartire e riparte Jalabert lo controlla scatto in progressione di Pantani una grandissima azione dobbiamo dire una tappa veramente splendida con un Pantani fermato da un salto di catena un Pantani ed ecco che la regia ci ripropone lo scatto di Pantani Pantani ha avuto questo cedimento poi ecco primo piano di Gotti poi l'impennata ad orgoglio l'impennata che contraddistingue il grande campione siamo a 3 km dalla conclusione Bulbarelli a 3 km dall'arrivo il ritardo del gruppo Gotti che comprende appunto il Bergamasco Gilberto Simoni Savoldelli e Clavero è di 14 secondi 14 secondi ha ceduto nel frattempo Miceli ed eccoci su Pantani un rullo compressore si abbiamo parlato all'inizio della salita non è stato un cedimento ma solamente una pesantezza di pedalata causata proprio da questo incidente però sono stati bravissimi i compagni di squadra lui non si è fatto a quel punto prendere dalla foga è salito regolare ma negli ultimi 6 km quando la salita è cominciata a diventare veramente dura ha fatto impressione ha preso e superato tutti i corridori adesso guardate con che agilità riesce ad andare via dobbiamo dire forse per assurdo che la sfortuna ha scatenato Pantani Pantani che ha avuto questa ripeto flessione psicologica Pantani che forse si sarebbe accontentato di controllare la corsa sino all'ultimo chilometro per poi cercare di dare la bottarella ha dato una dimostrazione di grandissima classe ma di grandissima classe non solo a livello colpo di pedale ma di grandissima classe a livello risvolti psicologici avete visto il suo direttore sportivo uscito dalla miraglia per gridargli vai e ormai il vantaggio di Pantani sentiamo Radio Corsa stanno facendo il riverebamento mentre ora vedete Clavero vedete Simoni poi Savoldelli e Gotti a 10 secondi c'era Jalaberra a 14 secondi c'era Simoni c'era Savoldelli 6 secondi 6 secondi per Pantani Bulbarelli ultimo aggiornamento 2 chilometri e mezzo e mezzo e mezzo al traguardo il vantaggio di Pantani su Miceli era di 16 secondi aumenta anche il vantaggio sul gruppo Gotti Simoni Clavero e Savoldelli e sale a 28 secondi 28 secondi a 2 chilometri e mezzo dal traguardo a 6 secondi c'è Jalaberra quindi Jalaberra Miceli poi il gruppetto di Clavero Simoni Gotti Savoldelli siamo a 2 chilometri dalla conclusione con un vantaggio di 6 secondi per Pantani nei confronti del più immediato in seguitore che è Jalaberra mentre ora vedete il gruppetto con Clavero con Simoni con Savoldelli e con Gotti tutto il Gota tutta l'alta classifica di questo Giro d'Italia è là davanti e il pubblico impazzisce impazzisce per questo attacco di Pantani Mazzocchi Eras Eras si sta riagganciando al gruppo di Clavelo Savoldelli e Gotti siamo a 2 chilometri all'arrivo tenta di riagganciarsi anche De Paoli a voi ed eccoci nella scia di un Pantani scatenato delirio del pubblico pubblico che numerosissimo ha raggiunto il traguardo finale mentre vedete Gotti scatta scatto di Gotti sulla destra c'è Simoni allora Jalaberra a 6 secondi il ritardo di Gotti 14 secondi in classifica generale Pantani a 53 secondi di vantaggio nei confronti di Savoldelli a 1,21 Gotti aumenta quindi il vantaggio di Pantani in classifica generale leggermente in difficoltà Savoldelli che sta perdendo le ruote di Gotti e Simoni scatta ancora Pantani mentre vedete Gotti inquadrato maglia giallorossa per Ivan Gotti lo affianca Simoni testa a testa tra Simoni e Gotti si volta Pantani vedete 8 secondi aumentato il vantaggio di Pantani nei confronti di Jalaberra aumentato il vantaggio di Pantani nei confronti di Gotti 30 secondi ha messo il 53 come diceva Gianni Bugno corridori che hanno gamba qui riescono a mettere il 53 e continuamente sui pedali per rilanciare la velocità ed eccoci su Simoni e su Gotti una grandissima prestazione a livello atletico e psicologico per Pantani di la verità ha avuto paura quando ha visto che faceva aveva delle difficoltà a mantenere il treno dei suoi compagni merito sono tutti 10 e lode perché prima hanno bloccato hanno controllato la corsa poi nel momento di difficoltà di Pantani sono stati pronti a bloccarsi e a riportarlo in gruppo e a rincuorarlo ultimo chilometro probabilmente perché i corridori Zain e Ivelo hanno cercato di andare a tutta per rientrare il più presto possibile il loro compito era quello di riportarlo in gruppo la velocità era troppo sostenuta Marco veniva da uno stop aveva avuto questo problema un po' di nervoso e ci ha impiegato un po' di chilometri per ritrovare la pedalata giusta ma appena la salita è tornata impegnativa ha fatto impressione ed ecco che Pantani si sta avvicinando al traguardo per assaporare la gioia del secondo successo non c'è niente da fare quando la strada si rizza sotto i pedali Pantani è il più forte un Pantani vogliamo dire che a limite questo blocco ha fatto sì mentre Savoldelli perde terreno ha fatto sì che questo finale diventasse più emozionante un thrilling eccezionale con un primo piano di Gialaver Gialaver in grande difficoltà ieri Gialaver che ha dimostrato oggi Gialaver che ha 16 secondi gotti a 36 secondi ha dimostrato che la defiance ieri ha perso la maglia rosa ma l'ha persa con grande dignità con grande onore è stata superata testa della corsa Pantani scatenato Pantani ormai in pista del traguardo finale seconda vittoria vince aumenta alla grande il suo vantaggio in classifica generale ma soprattutto dà un colpo importantissimo al morale dei suoi avversari niente da fare quando la salita è dura nessuno riesce a stargli a ruota anche con un handicap di 30-40 secondi all'inizio della salita è riuscito a riprendere tutti e a staccarli tutte le volte che ne prendeva uno lo staccava siamo ormai in vista del traguardo per Pantani ed ecco Pantani ormai nel fondo al rettilineo occhio al distacco mentre vedete il tempo totale già l'avero ormai rassegnato alla sconfitta ma una sconfitta con estrema dignità Pantani scatenato Pantani in vista del traguardo finale eccolo là in fondo al rettilineo ancora su Pivali scatta ancora Pantani eccolo tifo da stadio qui ad Europa con un tifo da stadio calcistico Pantani Pantani non non si rialza non molla sino al traguardo e poi si concede l'alzata delle braccia allora tempo totale 3 ore 47 primi 31 secondi vedete sulla destra il ritardo Jalabert in seconda posizione Jalabert ora taglia il traguardo in questo istante Jalabert conquista la seconda posizione con un ritardo di 20 secondi Jalabert è secondo a 20 secondi ed eccoci ora vediamo chi sta arrivando arriva Simoni poi Gotti poi Clavero poi è la volta di Biceli vedete il distacco e poi ecco che arriva Savoldelli Savoldelli il cui ritardo in classifica generale di 48 secondi ecco che arriva Zinchenko poi è la volta di Grandi poi è la volta di Rebellin di Kamenzin di Kodol e poi ecco che arrivano i due Spagnoli Gomez Eras e Eras grandi attaccanti ma nel finale hanno pagato lo sforzo Jalabert Davide un giudizio su questa tappa beh è stata una tappa fantastica quest'ultima salita da brivido proprio per questo incidente di Marco Pantani secondo me si è anche un po' risentito c'era grinta in questa sua scalata forse perché nel momento che lui è rimasto attardato è stato attaccato da 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 corridori mentre arriva arriva Gonchar Zirank e Sgambelluri ritardo 1 e 42 per Gonchar Zirank e Sgambelluri poi vediamo ancora un altro gruppetto che si sta approssimando al traguardo ed è Axelsson ecco qua lo svedese Axelsson poi c'è Sgambelluri poi vediamo anche Nicole poi ecco è arrivato Luttenberger l'Austriaco e quindi ancora incominciano ad arrivare gli uomini che hanno lavorato a fondo per Pantani ecco che arriva Velo davanti a Velo c'è Di Grande e poi c'è Zaina ed ecco che arriva a vediamo il ritardo di Savoldelli Savoldelli è arrivato con un ritardo di 48 secondi in classifica generale ne aveva 53 49 secondi e Bulvarelli e con Savoldelli eccoci qui il primo intervistato al Santuario di Europa Paolo Savoldelli si sapeva che oggi non avresti potuto attaccare come ieri comunque hai limitato direi abbastanza bene i danni sei arrivato nei primi 10 hai lasciato a Pantani una cinquantina di secondi sì sarebbero stati di più se non gli succedeva quell'inconveniente all'inizio salita ma io non guardo Pantani perché lo so che Pantani è superiore guardo tutti quelli dietro di lui io mi complimento con te per l'onestà con cui hai sottolineato questo Pantani è rimasto attardato ha fatto un recupero fantastico alla fine è arrivato da solo eh ma Pantani si sa che è superiore si è sempre detto che se questo giro non gli succederà niente lo vincerà lui la tua prova come la giudichi cioè sei soddisfatto di quello che hai fatto oggi sì sì secondo me è positiva grazie a Paolo Savoldelli mentre abbiamo visto arrivare con un netto distacco Cepe Gonzales e anche il ticinese Puttini due volte campione nazionale allora quindicesima tappa 147 chilometri percorsi con una media di 38 e 766 vince Pantani con 21 secondi di vantaggio sul campione nazionale francese Chalabert Simoni terzo a 35 secondi Gotti quarto a 38 poi quinto si è piazzato Clavero sempre a 38 secondi a 44 Miceli a 49 Savoldelli Zinchenko ottavo a 54 secondi De Paoli nono a 56 secondi Rebellin decimo a 57 secondi pertanto in classifica generale Pantani ha portato il proprio vantaggio a un primo e 54 secondi nei confronti di Savoldelli mentre Chalabert si piazza in terza posizione a 2.10 a 2.11 Gotti a 2.12 Clavero mi sembrava di vedere il Pantani dell'Alpe d'Ouest quando prendeva e staccava tutti gli altri che erano in fuga veramente impressionante gli ultimi 6 km è stato uno spettacolo guardare sempre sui pedali si metteva seduto per 10 metri poi di nuovo sui pedali ma torniamo con Bulbarelli mentre queste sono le biciclette di Pantani e Chalabert Bulbarelli eccoci con Ivan Gotti quarto posto oggi 38 secondi di ritardo da Pantani un Pantani che ha dovuto recuperare si infatti ha avuto un salto di catena nella prima parte della salita noi abbiamo proseguito con un passo regolare però lui si sapeva che comunque con la condizione che è prima prima poi ci prendeva ecco raccontaci Ivan quando avete saputo di questo incidente meccanico avete reagito in un modo diverso o avete proseguito la corsa come se nulla fosse successo tutti quando c'è stato il salto di catena ma diciamo gli uomini della onza hanno continuato un passo regolare per quanto riguarda la tua prova cioè fino a un certo punto sei stato con Chalabert poi è partito da solo e alla fine siete rimasti in quattro nel gruppetto c'erano anche Savoldelli Clavero si ma non raggiunto un pezzo duro ma hanno raggiunto appunto i Simoni Savoldelli e Clavero poi qui nel finale ci siamo ancora rotti si è arrivati io Clavero e Simoni diciamo che oggi non ero proprio brillante comunque sono riuscito a difendermi bene ma non eri brillante per qualche problema fisico no probabilmente un arrivo così esplosivo ho accusato un po' un po' magari delle fatiche di ieri comunque dopo le polemiche di ieri tutto risolto con Pantani vi siete parlati siamo parlati abbiamo chiarito alcune cose episodi che magari quando c'è un po' di tensione episodi che magari non si vorrebbero fare però purtroppo con un po' di tensione un po' di nervosismo capita anche questo il giro ha cominciato l'ultima settimana Pantani e Maglia Rosa io non credo che abbiate perso tutte le speranze voi che inseguite a pochi secondi ma Marco ha una forma invidiabile ogni giorno migliora sempre di più faremo possibile per inventarci qualcosa grazie a Ivan Gotti mentre la regia ci ha riproposto quell'incidente salto di catena che poteva mettere in crisi Pantani e che invece mentre vedete Berzin e che invece ha esaltato l'ardore agonistico del Romagnolo adesso passo la linea a Claudio Ferretti oggi vedete Clavero poi Gonciar poi Miceli Savoldelli Zincenco De Paoli e Rebellin la nuova classifica generale Pantani Savoldelli a 1.54 Gialavera a 2.10 Gotti a 2.11 Clavero a 2.12 Gonciar a 5.40 5.44 per Simoni 6.08 per Axelson 6.27 per Camenzin 7.58 per De Paoli domani sedicesima tappa Biella Lumezzane 232 chilometri tappa totalmente pianeggiante con un finale su di un circuito di 9 chilometri da ripetere una volta l'arrivo previsto alle ore 17 con Pantani trionfatore di tappa leader alla grande nella classifica generale concludiamo la nostra telecronaca diretta linea al processo alla tappa credo di aver assistito oggi indipendentemente dall'entità dell'impresa dai distacchi dalla durezza o dalla lunghezza della salita ma per i modi per i tempi per i meccanismi di questa scalata di questa rincorsa di Pantani io personalmente credo di aver assistito ad una delle più grandi imprese in salita del ciclismo moderno non so cosa ne pensa lei ma io penso innanzitutto che al di là dell'impresa atletica che è stata grandissima ma è poi grandissima perché ad un certo punto insperata addirittura si stava pensando ad un Pantani in crisi ad un Pantani che non teneva le ruote dicevano dei zaini e cassani di zaini e di velo invece era tutto un assestamento della pedalata e del personaggio al di là di questo io penso che Pantani abbia fatto anche una grossissima impresa psicologica si è messo da parte la tranquillità per la tappa cronometro di Treviso ecco che non ha più nessun problema nessun affanno particolare per lui poi sul prosieguo del giro su come potremo divertirci vista questa sua superiorità io proporrei di riviare tutto domani ah ma guardi credo che Savodelli abbia sintetizzato tutto quando ha detto intervistato da Bulbarelli ma tanto Pantani Pantani è tranquillo Pantani ha già vinto non c'è solo niente da fare Pantani deve darci sullo Dolomiti anche per una ragione di equa distribuzione di se stesso nella geografia dell'Italia quello che ha dato all'Appenino e alle Alpi Piemontesi io prima di chiamare in causa rispetto a ieri ma una in meno una in meno molto significativa beh questo è appena un antipasto spero maglia verde e poi spero che Pantani torni da te per un'intervista più tranquilla più riposata dicevo torniamo allora a Cassani per un momento abbiamo tutti avuto un brivido tutti i tifosi di Pantani ma lo siamo un po' tutti più che altro perché quando un corridore rimane staccato per un incidente meccanico dispiace questo è successo a 8 km dall'arrivo i suoi compagni di squadra subito non si sono accorti di questo incidente e di fatti lo hanno atteso in un secondo tempo lui è rimasto scoperto è ripartito con la poga che può avere un corridore in maglia rosa quando mancano 8 km dall'arrivo e secondo me nei primi 2 km ha un po' fatto fatica anche perché ha l'adrenalina il timore di rimanere staccato l'inseguimento che subito ti porta il cuore a mille poi appena trovato la salita dura non c'è stato più nulla da fare è stato impressionante si è visto proprio subito il cambio di ritmo di Pantani che ha ritrovato quella pedalata che lo contradistingue mi sono dovuto fermare e chiaramente è scoppiata la bagarre subito dopo e quindi mi sono trovato a dover inseguire e quindi ho sforzato un po' nella prima parte direi che ho trovato una squadra subito molto pronta che ho cercato subito di di cucire il buco cercando di mantenere abbiamo cercato di mantenere la calma il più possibile anche se chiaramente sono situazioni abbastanza problematiche alla fine ho cercato di 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 mantenere la calma e la concentrazione e alla fine ho avuto ragione senti quando poi hai visto Gocchi e Giallaberni sembra che le energie siano cominciate a ritornare ma no io il mio obiettivo era quello di di rientrare e di rivedere tutti i migliori perché chiaramente l'occhio della corsa erano loro e credo la dimostrazione di di prenderli e saltarli vuol dire che penso una dimostrazione di carattere perché magari era più facile prendere un po' fiat invece un po' forse la rabbia per quello che mi era successo e va bene così Marco abbiamo avuto l'impre